E bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video, più esattente torniamo in ladder per andare a vedere il miglior mazzo attualmente in meta un mazzo completamente sbagliato, stiamo parlando ovviamente del druido, se si parla di una classe sbagliata è di solito il druido magari qualche volta il rogue, però insomma sono sempre loro due a fare i casini e questa volta appunto questo druido ne sta creando davvero tanti infatti andiamo a vedere immediatamente il deck, il deck è una lista abbastanza classica, ormai la conoscerete bene perché l'avrete trovata più e più volte contro stiamo parlando appunto di un Ignis Yogg druido, un druido che ha diversi modi per andare a vincere di sicuro quello di farsi infinita armatura è il modo migliore per andare a battere mazzi aggressivi che a cui basta in verità solamente andarsi a curare e andare a rimuovere un pochino le loro board come fare a rimuovere ovviamente grazie a spezza prigione, servitore super sottovalutato, questa roba è devastante c'è un 4-mana 4-4 che fa 3 danni a tutti i nemici quindi anche faccia, cioè è una roba fortissima mai vista e ovviamente grazie a Yogg anche che è un'altra carta allucinamente troppo forte e che non ha senso praticamente di esistere ma vince anche contro mazzi contro in quanto vi permette di fare davvero delle armi devastanti con furia del vento farvi una cosa come una 20 con furia del vento quindi stringere 40 danni in un turno inoltre proprio grazie anche a Fizzel Fotografo potete anche andare a riottenere più volte l'arma senza alcun problema contro mazzi midrange tendenzialmente vince con una combo di entrambe, no? alla fine in midgame lo tieni grazie all'armatura, grazie alle rimozioni e poi vai a vincere sempre con l'arma non ti basterà un'arma devastante, ti basterà anche un'arma più piccolina il deck qual è il segreto di questo mazzo? il segreto è quello di riuscire a pescare davvero tanto quello di curarsi davvero tanto e avere comunque delle buone removal andando a vedere carta per carta possiamo dire che al malligan di sicuro volete l'abbraccio alla natura che è la carta migliore in quanto una volta forgiata vi pescherà sempre la nutrizione che non solo vi permetterà di andare a pescare ma anche quello di andare a rampare per due cristalli di mana a zero mana abbiamo forma acquatica che vi serve per aiutarvi un pochino con la mano a guato per andare a baffare la vostra arma e in nervette per andare a rampare graffio per andare a rimuovere soprattutto un taunt spesso e volentieri vi sarà molto utile quindi non andate a spercare prova matura utile in alcune situazioni per cercare di sistemare un pochino l'avversario astalor come il prezzemolo altra win condition del deck eclissi solare è una carta completamente assurda in questa lista di solito l'andrete a mettere sempre in combo con il germoglio germoglio di lotto che una volta che saranno passati i tre turni vi permetterà di andare a pescare due carte e ottenere dieci armature ecco con eclissi voi capite che fare venti armature e pescare quattro carte a cinque mana è una cosa completamente fuori di testa tonalità armonica molto forte anche qui per andare magari andare a fare edital all'avversario fizzafotografo per dare ulteriore valore contro il matchup control sversatrice per andare a guadagnare le mana diffusione per andare a ciclare ignis per la combo spezza prigione come avevamo detto utilissimo insieme a jog per andare a rimuovere le borne nutrizione rampare e pescare e poi eonar che ha diverse funzionalità funzionalità di magari mettere borne quindi pressione funzionalità di andarvi a curare funzionalità di andarvi a pescare insomma una carta che ha davvero diversi modi di essere giocata è davvero molto utile e di sicuro è un pezzo fondamentale del deck insomma questa è la lista forse è un po' difficile presentarvelo così direi che andiamo con le nostre partite in modo da capire sul campo la forza del deck e quindi andiamo subito con la prima partita di oggi prima partita che ci vede giocare contro Hunter Hunter potremmo definirlo un avversario ostico se non si riesce a gestire in early game ma una volta distrutta le sue board dovremmo riuscire a vincere senza troppe problematiche l'anomalia tra l'altro ci viene comunque incontro perché ci permette di pescare più del dovuto a differenza di Hunter che tendenzialmente invece cerca di andare a giocare in curva turno 1 quindi che andiamo a passare in questo modo andiamo a pescare la prima carta vediamo se anche il guerriero eh sì scusate anche se il cacciatore del avversario deciderà di andare a pescare no in questo caso va a fare sussulti si prepara già un turno 2 di doppio 4-1 che non dovrebbe essere un grosso problema da gestire ovviamente noi turno 2 passo e c'è da dire che vorrei andare a sviluppare quei 4 mana che abbiamo in mano interessante che non va a giocare doppio 4-1 no alla fine decide di andarlo a giocare ma va a sprecare tra virgolette il coin non capisco bene questo turno forse un po' prematuro eh c'è da dire che noi vogliamo andare a sviluppare il drop a 4 quindi direi che vogliamo andare a cercare più spell possibili eclissi solare mi farebbe pescare il che non è male andiamo quindi a prendercela eh potrei andare a giocare anche la seconda eclissi ma prima andiamo a vedere cosa troviamo dalla spell da 1 dalla spell da 2 eh da 1 troviamo case naturali che è comunque molto buono dobbiamo valutare se ehm ha senso eh andare a giocare un eh agguato magari per poter dare 4-1 a me piacerebbe comunque andare a pescare quindi flottare almeno un mana eh qui io mi andrei a prendere a dire vero il ehm Yogg Germoglio è molto figo perché avremmo doppia spell da 2 comunque in mano quindi potremmo andare a pescare e farci davvero tanta tanta armatura però appunto è un po' prematura secondo me qua come turno ehm direi che possiamo andare di agguato possiamo andare di spell a 0 andare a tardare doppio 4-1 non andiamo ovviamente a fare HP perché vogliamo andare a pescarci Yogg abbiamo giocato le nostre 5 spell ora l'avversario andrà a mettere tutta quanta a bordo che vuole col vario 4-1 e qualcos'altro e noi andremo a spaccare con appunto il servitore a 4 ok ha una seconda spell a 1 l'avversario è partito molto bene qua si va a baffare tra l'altro il 2-3 vediamo se decide di andare a fare value trade si questo è il caso del value trade ma noi abbiamo appunto il 4 mana che qui fa un lavoro pulitissimo andiamo a traddare tutto quanto e gli andiamo a togliere appunto l'aggressività che era questa la cosa principale no? da fare contro ehm Hunter andare a distruggerli completamente la borda iniziale poi ovviamente l'avversario è partita con doppia spell a 1 che è molto molto forte noi comunque possiamo rispondere nuovamente col 4-4 non solo ci andiamo a prendere completamente la board ma ehm ci ritroviamo comunque in un'ottima posizione finalmente troviamo anche la spell da 1 che prossimo turno potremo andare a infondere andare a pescare la nourish e poi andare magari a fare astalor l'alternativa è quella di andare a fare semplicemente la spell da 1 andare a giocare nourish a 5 mana per andare a rampare di 2 però a me piacerebbe comunque andare a pescare in questa situazione tra l'altro troviamo un secondo abbraccio però ehm come dicevo tanto vale andare a prenderci la nourish buffata andiamo a giocare astalor test andiamo a fare value trade con l'1-4 andiamo a spingere ulteriori 4 danni è vero che l'avversario ha più 2 spell damage in questa situazione qui ma la nostra mana è davvero molto buona andiamo a pescare un'ultra carta ovviamente sempre dall'anomalia andiamo a finire con 9 carte in mano perfette per il prossimo turno freccia evocata qui ci va a traddare il 4-4 gli rimangono solo 4 mana e deve traddarci comunque un 2-2 un 4-2 lo riesce a fare anche lui con spezza prigione andiamo a trovare agguato e qui ci dobbiamo un pochino liberare la mano potremmo anche pensare di andare a giocare fizz il fotografo se andiamo a giocare fizz il fotografo poi possiamo andare di 3 più 3 andare a 5 però tendenzialmente non basta sto pensando allora inoltre fizz il fotografo alla sfortuna potremmo dire di non avere tutto il valore che meriterebbe quindi direi che graffio ce lo possiamo andare a togliere andiamo a pescare 3 carte qui siamo un po' sfortunati col pescaggio andrei a continuare a pescare carte ciclare con la spella 2 andiamo a trovare un'altra innervate direi che possiamo addirittura pensare ora a giocarlo abbiamo un bel po' di valore l'alternativa è poter andare a giocare a astalor se no potremmo anche andare a fare la spella 1 direi vero vediamo nourish nourish qui possiamo andare a sperare di andare a pescare 3 carte e vediamo se abbiamo qualcosa di giocabile no purtroppo no va bene non è un problema intanto l'avversario qui ha 14 punti vita e noi il prossimo turno abbiamo vinto grazie all'eclissi all'espella 2 che fanno 16 danni solo loro più graffio non dovrebbe esserci problema abbiamo yoga 0 abbiamo settato praticamente l'ital quindi non ci serve nemmeno il top deck perché qui appunto andiamo a vincere semplicemente i danni come dicevo all'inizio contro hunter l'importante è andare a regolarlo all'inizio poi non vi servono ignis non vi servono combo particolari vi basta appunto uno yog gli spezza prigione e poi insomma andate a chiudere con il vostro attacco qui inutile il tanto che va a mettere anche perché tra l'altro ci lascia pure il 3-3 in campo che gli permetterebbe di traddarlo no andando a baffare con la banana non è più possibile ma come dicevamo possiamo andare all'eclissi spell da 2 eclissi spell da 2 abbiamo pure yog in verità per andarlo a rubare il pezzo anche se potevamo fare tranquillamente graffi o graffi che possiamo fare così per divertimento sul 3-7 andare a pushare 18 danni ne avevamo ulteriori 3 dal 3-3 andiamo a chiudere la prima partita in maniera molto semplice no alla fine ehm questo druido si conferma davvero un mazzo incredibilmente forte incredibilmente consistente se si sa come andare a vincere i vari matchup a questo punto è praticamente impossibile andare a perdere a meno che davvero non vi giri al contrario il mazzo ma ad avere una consistenza di card draw ehm che alla fine è difficile che andare a missare la maggior parte delle cose ci butterei mi butterei subito con la seconda partita seconda partita che ci vede giocare contro Rogue ehm Rogue avversario di sicuro più difficile rispetto ad Hunter anche lui gioca a Yogg giocherà probabilmente le Coq a meno che non sia un vecchio McRogue ma a quel punto non dovrebbe essere un grosso problema quindi dovremmo riuscire a gestirla abbastanza bene la mano non è grandiosa niente spell da 1 niente nourish abbiamo spezza prigione ma non è che Rogue ci metta tutta questa pressione in board incredibile e inimmaginabile quindi va bene vediamo un pochino altra innervate è ok ma nulla di incredibilmente forte vediamo se passerà questo primo turno avversario se va a giocare qualcosa decide addirittura di andare a scoinare a 2 mana il 3-2 probabilmente ha la miglior start del deck e quindi andrà a giocare con tutta probabilità la la spella 2 ora infatti eccola qui e probabilmente anzi senza probabilmente andrà a piccare i servitori a 3 mana e metterà doppio servitore a 3 mana per mettere pressione no decide di andare di valore come matchup va bene che ci dia così tanto tempo a me non dispiace per nulla a questo punto possiamo andare di spell da 1 ci prepariamo la nutrizione a turno dopo possiamo andare a infondere anche la seconda spell da 1 e possiamo passare qui il turno prossimo turno appunto nourish grazie appunto alla innervate andiamo a pescare 3 carte andiamo a rampare le 2 davvero un turno molto molto forte sto pensando con gli altri 2 mana restanti cosa potremmo andare a fare potremmo valutare di andare a fare un graffio e la spell da 1 forse graffio ha senso un pochino aspettare la spell da 1 invece è meglio andare immediatamente a giocarla ed evitare un top deck di una nutrizione che ci farebbe perdere alla fine il suo effetto il 4 mana sarà attivo dal prossimo turno qui l'avversario ci fa millare ottima giocata in verità da parte di Oppo che comunque possiamo dire ha avuto davvero una curva davvero molto buona no? turno 1 3 2 turno 2 doppia mistura ora turno 3 ha giocato un 5 e 5 quindi super giocata e tempo addirittura turno 4 gioca forse il miglior pezzo il miglior drop a 4 dell'intero gioco tuttavia il problema è che noi siamo davvero troppo forti è vero che ci ritroviamo già 13 hp però il vantaggio è che Rogue non gioca danni dalla mano e noi abbiamo comunque un drop a 10 che ci permette di tornare a full vita e andare tendenzialmente a vincere questa partita W33 comunque sono statistiche di sicuro che deve andare a rimuovere o comunque se non dovesse andare a rimuovere almeno ci permetterebbero dei buoni trade anche perché ora il 4-4 è attivo quindi un 3-3 va sul 5-5 e magari il secondo andrà su un altro pezzo che potrebbe andare a giocare ad esempio la regina Shara 5 Dunque se no Krabbiaton non lo può ancora giocare no decide di andare a swarmare board va di 1-2 va di fuori a pesca se fa il turno così è davvero passivo ok l'1-4 e va a fare Shadows no breakdance in modo da andare a fare value trade sul 3-3 noi comunque direi che il turno rimane quello che volevamo andare a fare Fizz è interessante ma non adesso a dire il vero direi che possiamo andare di nutrizione per andare 10 mana andremo poi a 5 mana restanti quindi comunque il drop a 4 lo potremmo comunque andare a fare per andare a rimuovergli la sua board andiamo a fare ovviamente il value trade sull'1-1 in modo che possa morire col 4-4 e non gli diamo mistura in mano se avessimo ovviamente giocato prima il 4-4 era un problema quando gli avremmo dato due misture in più completamente gratis abbiamo 9 carte in mano direi che possiamo passare tranquillamente il turno abbiamo board control siamo a 8 punti vita ma questo non mi preoccupa perché il massimo che ci può fare è giocare doppia mistura che ci fa 6 danni più l'arma e sono un quantitativo di danni pari a 7 e quindi inferiori ma i doppi 6 danni non ce li ha va quindi a pescare due carte va a spaccarci il servitore che tra l'altro va a trovare anche il servitore migliore da andare a distruggere va a fare pure aculio e va a farci 4-4 ci porta 5 punti vita ma è il nostro turno di andare a scenare possiamo andare di 5-7 e andarci curare addirittura di 25 punti vita davvero davvero tanta roba in questa situazione e ci ritroviamo in un ottimo spot comunque un 5-7 da dover trattare assolutamente è vero che il 4-4 è di sicuro problematico ne ha un secondo tra l'altro vediamo se non ha shadow step se non avesse shadow step non sarebbe male perché dovrebbe andarsi a spaccare i suoi pezzi sui nostri ma vedo una prep un ventaglio di lame che gioca tra l'altro di main wow non capisco bene perché e vedo che si va a riprendere il suo 4-4 a shadow step lo andrà a rigiocare giocate qui molto forte l'avversario che non solo ci pusha 7 danni più altri 3 quindi 10 totali ma inoltre mette comunque una discreta board supportata anche dall'intrugliatore ne andiamo a trovare il germoglio germogli che purtroppo per noi sono arrivati davvero troppo tardi nella partita hanno davvero poco valore frutto proibito ci potrebbe aiutare a stallare un pochino il che non sarebbe malissimo anzi potrebbe essere anche molto buono se no l'alternativa è tonalità però frutto proibito ci potrebbe dare davvero una cosa come 18 armatura sto pensando se andare a giocare a qualcos'altro a me piacerebbe comunque andare a mettere board in questa situazione quindi ci potrebbe stare andare a giocare il 3 mana e anche astralor magari con astralor andare a fare un value trade sul 3-2 e poi farci armatura sarebbero una cosa come 16 di armor che dovrebbero comunque bastare per il turno che vogliamo andare a fare tendenzialmente va bene temporeggiamo anche perché appunto i germogli sono ancora molto indietro e questo come dicevo prima è un problema turno 8 dell'avversario che va di granchiatoa servitore che mette molta pressione non solo ci va a spaccare tutta quanta la board ma soprattutto continua a mettere tanta 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 board lui stesso che per carità noi possiamo ancora gestire l'unica cosa che dobbiamo andare a trovare yog e dobbiamo cercare di andarla a trovare direi che possiamo andare a fare spell da 2 per andare a giocare a spell da 0 per andarla a cercare troviamo spezza prigione che non è yog spezza prigione che qui non fa purtroppo praticamente nulla direi che andiamo allora di germoglio quello meno meno baffato ok finalmente yog è arrivato ci costa uno non so se abbia senso andare a fare un altro germoglio forse avrebbe senso andare a fare fizz andare a fare il coin andare a fare yog e nel caso in cui non riuscissimo a traddare tutto perché ad esempio il 4 4 va su 6 5 6 5 sull'1 2 ok l'1 2 che è andato su 6 5 vabbè almeno possiamo traddare con graffi o pusharli 6 danni testa e teoricamente qui abbiamo vinto l'unica risposta che potrebbe avere è se ha un suo stesso yog ma ha pescato solo metta mazzo quindi insomma è un 50 50 che ce l'abbia noi abbiamo dovuto davvero raccattare dalle ultime 6 carte del ovviamente yog l'avversario è esperto e ce l'ha ci va a rubare il nostro stesso yog e probabilmente si andrà a mettere tentacoli in mano con tutta probabilità almeno immagino si esatto è quello che va a fare vedo che si voleva andare a riprendere il suo yog ma appunto ha più senso andare a riprendere il mio a dire il vero anche se in verità qui andarsi a riprendere yog contro druido non è che abbia troppo senso va a giocare anche i tentacolini il che è un rischio perché alla fine i tentacolini ti possono andare a spaccare il tuo stesso yog invece no l'avversario ha un culo incredibile si va a fare più 3 l'attacco e soprattutto furto vitale si va a mettere board con le reclute è pure il giudizio incredibile l'avversario non solo è riuscito a farmi board clear ma è riuscito a curarsi di 5 a farci ulteriori 3 danni e mettere una board pure abbastanza forte va bene noi cicliamo ovviamente l'espelle a 0 in questa situazione ci possiamo andare a prendere ignis per andare a settare arma intanto qui l'avversario non ha mai detail teoricamente perché sono troppi pochi danni yog alla fine non può attaccare il resto a board è fatta tutta di 1-1 e 2-2 e quindi dovrebbe essere più che fine anche se in verità noi possiamo andare anche di drop a 4 qui in questa situazione essere quasi più contenti così direi arma a 10 ovviamente fuori l'evento a me non viene mai andiamo di furto vitale e facciamo 8 armatura visto che non abbiamo nemmeno trovato i drop a 8 davvero tanta sfortuna in questo 2-4 forse la peggiore arma in assoluto che potessimo trovare ma d'altronde ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo direi il 4-4 è fine no? ci va a traddare tutto quanto sto pensando se andare a traddare anche yog oppure no io direi che possiamo andare semplicemente faccia e passare il turno intanto il prossimo turno sarà il turno dell'arma e il turno ancora dopo potremmo andarci a giocare invece la spella 2 per andarci a riprendere tutti gli ulteriori dannini e andare a chiudere questa partita anche perché non gioca taunt il rogue ok però si va a nerfare da solo e va bene si va a spaccare praticamente tutta quanta la board bene così io sarei stato fermo in verità lì con i tentacodini non avrei giocato la spella 6 perché effettivamente era troppo rischioso anche se andava a trovare la spella 6 del lock che faceva appunto 4 danni a tutti era un grosso problema e e qui l'avversario ci potrebbe dare un vantaggio enorme intruglio ribollente 3 danni su 2 1 va più che bene va a spaccarci anche servitori va a pescare 2 carte ma questo comunque è un turno molto passivo che ci permette di poter andare a giocare l'arma in completa tranquillità andarci a curare addirittura di 13 punti vita e direi passiamo qui il turno andiamo a 42 punti vita a solamente un 6 in board e noi il prossimo turno appunto come stavano dicendo andiamo di spella 2 ci andiamo a rifullare la mano e andiamo a chiudere con i vari danni l'unico vero grosso problema che vedo è nella regina Azshara se dovesse andare a topdecare un colosso con provocazione ad esempio quello del druido per il resto dovrebbe essere tutto ok a dire vero sarebbe uno su 14 tipo perché ci sono due colossi neutrali ci sono una cosa come 10 11 classi no vabbè comunque abbastanza difficile come possibilità va di yog yog non so bene dove voglia andare magari si vuole rimettere ulteriori 1-1 qua non ha senso ovviamente andare a giocare un 1-1 perché rischerebbe di andarsi a spaccare la sua stessa board e infatti non lo va a giocare il problema è quel 4-4 che di sicuro ci rallenta di molto il turno che vogliamo andare a fare andiamo comunque a mettere un po' di board andiamo a fare la svella 4 yog ci aiuta sicuramente a traddare la sua board non è purtroppo little per poco tra l'altro gli rimane pure la regina noi qui potremmo andare a dire vero di graffio però non ha senso in verità andargli a traddare un 5-5-5-5 per ora non ci dà problemi magari se dovesse andare a trovare ad esempio il titano del druido proprio dalla spella 3 della regina ecco a quel punto ci servirebbe graffio e noi l'avremmo sprecato in questo modo quindi meglio andare magari a giocare astalor a questo punto andargli a spingere 7 danni testa e passare il turno e teoricamente a meno di eventuali giocate fogli con i vari drop a 1 che non so gli cassa la spella 10 del druido e ottiene mille provocazioni ecco a quel punto avremmo vinto ok non so se avete capito tra tutte le speglie ha castato proprio la spella 7 del mage e tra tutti i cosi che potevano uscire la spella 7 del mage quindi furtività assalto furia del vento scudo di vino eccetera eccetera trova esattamente provocazione almeno il colosso non è quello del druido è esattamente quello del del hunter tra l'altro la spella 8 rischiando un gorgo incredibile qui una pazzia da parte avversaria andare a giocare secondo tentacolino invece no va a trovare pure la spella 8 che è molto forte in questa situazione perché ci tradda tutto quanto però come vi dicevo prima ci abbiamo giocato attorno ci siamo tenuti il graffio proprio per eventuali sculate da avversario sculata che è comunque arrivata ma purtroppo per oppo non è bastata per canterare la nostra arma e niente quindi ci portiamo a casa anche la seconda vittoria consecutiva direi che ci possiamo buttare direttamente con la terza visto che è davvero un mazzo forte infermabile e devastante non dovrebbe essere troppo difficile andarne a vincere un'altra altra partita che giochiamo contro mage 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 è sempre un avversario interessante mi piace quando gli avversari mi giocano mage perché uno non è un mazzo troppo forte però insomma poi cambia anche un po' il matchup non se ne vedono molti di di mage in giro e quindi sono contento di andarla affrontare questa volta germoglio finalmente ce l'abbiamo in mano potremmo andare finalmente a pescare 4 carte e farci 20 armature che forse è la giocata più forte del mazzo grazie ad ecrisi vediamo se finalmente il gioco ci permetterà di avere un pelo più di fortuna appunto nelle mani tessiera cosmica è il miglior turno in assoluto che il mage poteva fare tra l'altro anche il coin quindi potrebbe addirittura fare coin più spell a 4 se davvero molto molto fortunato e nel caso in cui l'avesse sarebbe la miglior curva che può avere il mage ovviamente ce l'ha va di coin vediamo che spell a 4 va a fare no va a fare testo che tra l'altro non casta nemmeno giocata particolare da parte avversario che qua va a mettere un 2-2 un 1-3 zero pressione ma secondo me il coin se lo poteva tenere sinceramente direi che non ha molto senso andare a rampare in questa situazione preferisco andare a pescare andarmi a prendere appunto l'eclissi eclissi che ora grazie alla spell a 3 inizia a diventare molto molto forte e l'avversario continua a mettere una board abbastanza deboluccia il che non è un grosso problema per noi va ovviamente a girarsi offerta scottante noi troviamo un abbraccio della natura che possiamo andare a forgiare per attivare ignis nei prossimi turni andare anche a giocare prossimo turno è quello di astalor in cui andiamo a traddare il 2-2 e otteniamo comunque un servitore che deve essere traddato la board nemica è abbastanza debole noi prossimo turno possiamo andare tranquillamente in urish abbiamo 3-6-9-10 carte in mano possiamo andare di spell a 0 più graffio più nourish esattamente andremo a 7 più 10 e poi magari giocare qualche top deck appena trovato runa ardente è il turno avversario ci va qui a infliggere 6 danni vuole andare a vincere in questo modo accelera i tempi ma purtroppo per lui noi abbiamo non solo la nourish abbiamo anche la spell da 2 appunto come detto qui dobbiamo andare a giocare un po' di robe prima della nourish non so se forse ha senso andare a farsi 20 di armatura qui al posto di andare a rampare 3-6-7-8 andiamo a giocare anche graffio andiamo a giocare a nourish ok la spell a 0 direi che possiamo andare a fare la spell a 0 in tu pescaggio ancora potrebbe potrebbe non essere male andiamo a trovare un'altra forma acquatica tra l'altro possiamo andarla a rigioclare in questo modo continuiamo a ciclare le spell buono il 4-4 direi semplicemente possiamo non andare a millare in questa situazione controlliamo che segreto è non è il segreto dell'hunter che lieva conservatore quando qualcuno lo attacca e quindi niente io credo che qui il game si possa concludere abbiamo il drop a 10 che ci refull completamente abbiamo modo di riguadagnare vita ci siamo presi lo spezza prigione proprio per tradargli questa piccola board che ha messo non è un grosso problema il segreto l'ha trovato casualmente inutile anche testarlo ok comunque ero esplosive ma questo ci permette in verità di averli completente tolto tutta quanta pressione e quindi possiamo andare di eclissi andare a farci 20 armatura andare a pescare addirittura 4 carte troviamo pure Yogg-Saron e vabbè l'avversario ha capito che a 40 punti vita non può andare a vincere questa partita sarebbe un lento e inesorabile morte per il povero mage alla fine druido si dimostra davvero troppo forte per i mazzi in meta dobbiamo solo che aspettare il che con tutta probabilità arriverà martedì quindi non vi suggerirei nemmeno di andarlo a craftare ovviamente se avete tutte le carte lo potete giocare senza problemi che è davvero molto forte e niente direi che davvero per oggi è tutto noi ci vediamo domani con una nuova guida e niente ciao ciao